Creare un portafoglio da 200 euro mensili in criptovalute. È questo il tema del video di oggi. Dopo aver già visto il primo video come creare un portafoglio con 100 euro mensili in cripto, andremo a costruirne uno con 200 euro mensili. Ed ho pensato a due possibili varianti differenti. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi torniamo a parlare di criptovalute e torniamo a parlare di costruzioni di portafoglio cripto. Questo perché ho visto che il primo video costruire un portafoglio con 100 euro mensili in cripto è piaciuto molto, per cui ho deciso sulla scena di quello di farne un altro con 200 euro mensili. E qui la costruzione del portafoglio cambia notizialmente perché la cifra è raddoppiata. Ho pensato a due tipi di portafoglio differenti, uno più speculativo e uno leggermente meno speculativo, ma proprio leggermente. Prima però di approfondire il discorso, come sempre sapete già cosa dovete fare. Spaccare il video di like e premere continuamente quel pulsante, iscrivervi al canale se non siete iscritti e attivare la campanella in modo di essere subito avvisati sui miei prossimi video. Oltre a questo, iscrivervi solito al canale Discord qui sotto, Angry Crypto, che vi saprà illustrare tutto ciò che volete sapere sulle criptovalute. Ora, analizziamo come costruire un portafoglio cripto, ma prima ancora di questo un'altra cosa. Voglio mostrarvi questo grafico. Ecco, questo grafico in teoria, secondo il creatore, ci dovrebbe mostrare a che punto siamo con lo svolgimento. Guardando ovviamente i dati dei precedenti anni, prima di una bull run, se è un buon punto per comprare altcoin e criptovalute, oppure non è un buon punto, ma se siamo ad un livello di crescita o siamo ancora ad un livello di resistenza, di accumulazione. Per me è la seconda, siamo ancora ad un livello di accumulazione. Non so se ovviamente questo grafico sarà ripetuto nel prossimo anno e anche nella bull run, ma a mio modo di vedere non ci andrà tanto lontano. Ovviamente tutto quello che sto per dire non sono consigli finanziari e nemmeno la creazione del mio portafoglio cripto con 200 euro pack mensili dovete seguirla alla perfezione. Ora non mi dilungo più e vediamo gli due tipi di portafoglio che avrei costruito se io avessi 200 euro da investire mensilmente e decidesi di investire quella cifra. Il primo portafoglio è un portafoglio meno speculativo. Le cripto al suo interno sono sempre le tre che ho illustrato nel video da 100 dollari, quindi ci sono Ripple, poi c'è Cardano e poi c'è Solana. Ma in questo caso ho tolto la Sheetcoin da 10 dollari, ho aggiunto un'altra altcoin importante che è Matic Polygon, una coin veramente importantissima che si sta sviluppando nel migliore dei modi, che è entrata anche nel mondo NFT e che ha una blockchain veramente buonissima. Polygon Matic infatti è veramente uno di quelli progetti che ha già stipulato anche collaborazioni con società importantissime come ad esempio Google. In questo caso però la percentuale non sarà più come prima, ovvero 30 euro per ogni criptovaluta, ma sarà di più. Sarà 40 euro per criptovaluta. Questa quindi siamo a 4 criptovalute e la quinta criptovaluta è Bitcoin. No, non è Bitcoin. Ancora con un portafoglio da 200 euro non ci metterai Bitcoin. Questo perché come ho detto in precedenza, Bitcoin non potrà fare una crescita esponenziale altissima rispetto ad altcoin e quindi l'occasione per, tra virgolette, far dei guadagni veramente grandi sarà minima avendo in portafoglio Bitcoin, soprattutto se abbiamo 200 euro mensili. In questo caso metterei però un'altra altcoin, ma un altcoin particolare. L'altcoin più importante è forse la meno volatile. Meno volatile nel senso che se le altre altcoin scendono del 20%, questa scende magari del 12%, del 13%. Parlo del re delle altcoin o della regina del criptovalute, ovvero di Ethereum, di Vitaly Buterin. Ethereum, inutile che vi dica quanto sia importante, è la prima blockchain che viene utilizzata anche da un'azienda americana come PayPal o anche una blockchain che ha al suo interno la vera e propria fondamenta del mondo delle altcoin perché è stata la prima ad essere creata e la prima ad utilizzare gli smart contract. Di conseguenza questa è forse la meno volatile perché la più importante è quella su cui le persone magari puntano di più rispetto alle altre altcoin. Quindi il primo portafoglio meno volatile sarà di 5 criptovalute, meno volatile ripeto per modo di dire. Queste 5 criptovalute sono tutte conosciute, tra cui forse la meno volatile Ethereum e in ogni cripto metterò 40 euro per un totale di 200 dollari mensili. Questo è il primo portafoglio, il secondo portafoglio è sicuramente più volatile e quindi molto più difficile da gestire emotivamente e lo completerò sempre con le 3 criptovalute che avevo messo nel primo video dai 100 dollari Ripple, Cardano e Solana ma le altre 2 cripto che metto all'interno di questo portafoglio perché ne inserirò sempre altre 2 quindi rimarrà sempre la percentuale di 40 euro, 40 euro, 40 euro, 40 euro e 40 euro saranno 2 nuove cripto 2 cripto che lo scorso bull market non esistevano nemmeno e quindi non si sa come potrebbero performare nel prossimo bull market e se potrebbero performare bene o male le opzioni sono due se performano bene performano a mio modo di vedere migliore delle cripto storiche che ci sono già all'interno del mercato se non dovesse performare bene sappiamo che ci siamo persi il classico rialzo di un altcoin storico all'interno del mercato per cui ragazzi le cripto che ho scelto sono SuiCripto una criptovaluta importantissima creata dal team di Libra ovvero Facebook che ha lasciato quell'azienda per creare una cripto tutta sua basata su un blockchain all'interno del mondo Ethereum ma alternativa e di conseguenza molto più veloce, scalabile tantissima, molto molto veloce perché non scala più le transazioni in orizzontale ma in verticale e oltre a questo non ha praticamente FI tantissime altre caratteristiche che non mi sto qui ad elencare perché anche in questo caso ho fatto un video andate a vedervelo perché ho analizzato molto molto seriamente la criptovaluta Sui e penso che sia una cripto importante per il mercato che potrà performare molto bene oltre a questa ho messo un'altra cripto che non c'era nello scorso pool market che è Arbitrium Arbitrium, un roll up di Ethereum anche in questo caso non possiamo sapere come performerà ma a mio modo di vedere tramite la sua scalabilità per quanto riguarda la blockchain Ethereum potrà sicuramente guadagnare molto molto valore sottovalutata, a mio modo di vedere inizialmente ha avuto un dump che l'ha portata ad un livello di prezzo molto buono ed ancora oggi è a un livello di prezzo buonissimo ed è molto lontana da quello che può valere sempre per quanto riguarda il mio modo di concepire le criptovalute ecco in questo caso questo portafoglio è più volatile perché ha due cripto che non ancora hanno performato nel migliore dei modi dato che non sono storiche e quindi sono sicuramente più incerte rispetto a quelle dell'altro portafoglio voglio ricordare una cosa però negli scorsi pool market che abbiamo avuto le altcoin che sono entrate nella top 10 sono quasi tutte state differenti rispetto al pool market precedente per cui anche questa è una cosa da tenere in considerazione allo stesso modo però bisogna anche vedere come è maturato e sta maturando il mercato delle cripto in questo caso il mercato delle cripto sta maturando in maniera tra virgolette solida su alcuni progetti e le persone iniziano veramente ad avere nella bocca sempre i soliti investimenti nei soliti progetti perché iniziano a fidarsi sempre di più in questi Cardano, Solana, Matic sempre quei soliti progetti ecco io non so quali due portafogli potrebbe essere il migliore il mio lo sapete perché ho fatto un video e vi ho detto come ho deciso di impostare il mio portafoglio voi come imposterete il vostro portafoglio? avete un pack da 200 euro mensili in criptovalute? se sì vi prego e vi chiedo gentilmente di scrivere qui sotto com'è il vostro portafoglio cripto se questi due portafogli vi piacciono o secondo voi non sono adeguati alle vostre esigenze o manca qualcosa un saluto da Michele vi ringrazio per aver visto tutto il video al prossimo video un ciao grandissimo a tutti quanti ciao ciao